Sta per ripartire il campionato di Serie B e siamo con il playmaker della Terramas Picchi, Giorgio Galipò. Giorgio, ti chiedo innanzitutto come è andata questa pausa. Fondamentalmente vi siete allenati tanto, quindi come è adesso l'atmosfera all'interno del gruppo? Sì, ci siamo allenati tanto. La pausa ci è servita un po' per staccare dalle pressioni del campionato. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi, ma abbiamo avuto anche il tempo di svagarci e avere un po' la testa fuori dalla pallacanestro. Ci è servito molto per l'animo, per riposarci e per ripartire carichi per il nuovo anno. Recuperate anche alcuni giocatori, quindi anche sotto questo punto di vista la pausa è servita? Sì, è servita soprattutto per quello, per recuperare un po' fisicamente alcuni giocatori che non avevano partecipato all'ultima partita da infortunati. Quindi ci è servito un po' anche per questo. Adesso siamo al completo, stiamo lavorando e pronti per la partita di domenica. Colgo appunto il tuo assist, si torna tra le muramiche del Pala Pellegrini, arriva Pozzuoli, fanalino di coda in classifica. Ancora non vince una partita, però partita appunto da non sottovalutare. Ci sono giocatori di altissimo livello. Sì, assolutamente. Sembrerò un po' ripetitivo, ma il campionato è complicatissimo. Ogni partita è a sé, la classifica non rispecchia la realtà delle squadre, quindi sarà una partita difficilissima. Pozzuoli ha dei giocatori di categoria, ricordo Cucco, Siracov, Cucco famoso qui a Teramo per essere stato l'anno scorso, ma comunque partita assolutamente da non sottovalutare. Noi stiamo lavorando su noi stessi, stiamo cercando di migliorare il più possibile ed è quello che mostreremo in campo domenica.